Riprendiamo anche oggi quello che è l'argomento di Solana, ragazzi, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, la domanda in questi giorni è un po' questa, Solana può rimbalzare dopo i pesanti ribassi che l'hanno vista protagonista dopo il crash di FTX, ragazzi, quindi può avere una fase di rimbalzo, perché ormai diciamo il dado è tratto, quindi comunque è una cripto che ha perso il 97%, adesso andiamo a vedere negli ultimi periodi, quindi al di là di questo, che ovviamente per recuperare un valore del 97% di ripresa ci vuole moltissimo in termini di rialzo percentuali per la cosiddetta spirale della percentuale, però un rimbalzo anche di pochi punti percentuali, che poi però in un contesto di prezzo così basso di Solana, ricordo che in pratica un annetto fa stava a oltre 60 dollari, ragazzi, adesso siamo intorno ai 10 dollari, potrebbe in effetti innescare comunque un rimbalzino magari di 40-50 punti, e ovviamente per trader è vantaggioso, perché quando c'è tanta volatilità, quando ci sono queste cripto che magari crashano in un determinato momento, per i trader diventano occasioni idiote anche di speculare, comunque al di là di tutto andiamo a fare un'analisi tecnica su Solana, ma anche ciclica, vi faccio capire un po' di questione, andiamo a ragionare, perché proprio nella giornata di ieri un po' il pump and dump l'ha fatto, si è mossa molto manipolazioni, scarsi volumi, difficoltà nel comprendere se effettivamente è arrivata a un livello di prezzo basso o meno, quindi insomma si iniziano a muovere alcune cosette. Poi andiamo a vedere anche alcuni dati che sono invece molto molto rilevanti, tra cui per esempio mi interessava riprendere e mostrarvi il grafico della total market cap della criptovaluta esclusa, l'Sablecoin, faremo anche un briefing magari sulla dominanza di Bitcoin, perché Bitcoin ragazzi continua a crescere in termini di dominance, anche se è poco, quindi continua ad essere abbastanza stabile. C'è da dire che poi dovremmo ragionare anche su un confronto di quello che è stato l'anno attuale per esempio sulla questione dei ribassi, ragazzi questo è il matchy world, giusto per farvi capire che cosa è successo in quest'anno e poi una piccola chicca che è il servo per voi, cioè quanto hanno perso i big criptomiliardari, perché nell'anno 2022 sono stati quelli più colpiti, 116 miliardi di perdite per i criptomiliardari in testa tra tutti, sì, sì. Va bene ragazzi, allora andiamo intanto a vedere un po' il grafico di Solana, così passiamo direttamente a guardare subito la risiclica, ma prima di andare avanti però ragazzi, siccome nell'ultimo video vi siete stati numero uno, io vi ringrazio ancora di cuore, su con i pollici è l'ultimo video dell'anno 2022, vi saluto con questo video e vi auguro un buona fine, un buon inizio 2023, quindi da parte mia è che il 2023 sia rosa e fiori, ovviamente sappiamo che non sarà così semplice, ma c'è una cosettina che come primo video dell'anno 2023 andremo ad analizzare, in ogni caso buono inizio, buona fine da parte mia, vi lascio anche con il mio bitcoin d'oro che è giusto metterlo davanti insomma in questi momenti, va bene, allora su quei pollici ragazzi mi raccomando lasciatemi i pollicioni e i mi piace. Allora andiamo a vedere Solana la questione disastro della criptovaluta con un super progetto che avevamo cavalcato negli anni che furono, è stata una delle mie preferite nell'anno 2020-2021, poi disastrosamente crashata con un'inversione di trend, che tra le altre cose, giusto per comprendere ragazzi, un'inversione di trend sul Solana è avvenuta in questo punto, quindi fino a questo periodo che era maggio del 2022, Solana non aveva mai invertito il trend di lungo periodo, perché vedete il trend di lungo periodo continuava ad essere assolutamente rialzista, vedete gli swing che facevano minimi e massimi tendenzialmente tutti al rialzo, quindi minimi, 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 vedete tutti più alti e massimi tutti più alti. Quando ha invertito il trend di lungo periodo Solana? A maggio del 2022, con la questione ovviamente inerente al caso di Luna, ma prima di allora non c'era stata un'inversione di trend, questo è interessante, perché proprio guardate come un'inversione di trend semplicissima, con una figura di analisi tecnica, che tecnicamente descrive un'inversione che avviene proprio con questa candela di 9 maggio, appunto con un meno 20%, provoca poi un disastro totale, ovviamente non è sempre così, altrimenti saremmo tutti miliardari, tutti ricchi, però una volta che un trend è invertito ragazzi, è invertito, quindi poi può andare su due strade differenti, cioè lateralizzare, fare trading range, come ad esempio alcune crypto tipo Binance hanno fatto, oppure fare un crash come ha fatto Solana, e c'è poco da fare ragazzi, quando la statistica e la matematica chiama, non c'è niente da fare, quindi stare comunque in hold con un'inversione di trend da questo punto in poi era ovviamente assolutamente sbagliato in termini proprio matematici e statistici, poi magari qualcuno di voi poteva pensare che da qui facesse diciamo una barra di congestione, quindi ci poteva assolutamente stare, un po' come ha fatto BNB, però l'assunzione del rischio era abnorme, questo bisogna comprenderlo da questo punto di vista. Andiamo a vedere la quantità di ribasso che ha fatto questa crypto proprio dalla giornata in cui ha invertito il trend, quindi da questa zona di inversione di trend al minimo di ieri Solana fa un meno 84%, quindi se è vero che da una parte ha fatto il meno 99, 97, adesso vi faccio il calcolo con precisione, dai massimi, allora dai massimi storici siamo a un meno 97%, è anche vero che da un punto di vista tecnico di investitori e trader è il meno 84% che si poteva risparmiare, perché la prima parte di ribasso è oggettivamente non corretto, a meno che non siete dei trader, quindi nel momento in cui siete dei trader uscite magari un'inversione di brevissimo e questo ci può stare, ma se eravate holder di questa crypto non ha invertito il trend fino appunto a maggio, quindi è solo da maggio in poi che l'inversione di trend avviene su un grafico di lungo periodo, quindi era corretto uscire in questo caso, quindi meno 84% secondo me è il vero dato di ribasso dall'inversione di trend, che ovviamente è importantissimo ed è molto grossa come fase ragazzi, perché vi faccio comprendere anche il discorso legato per esempio a BNB, se noi andiamo a vedere BNB dallo stesso periodo di maggio la struttura di ribasso non è assolutamente la stessa, vedete qui vi faccio vedere allora giusto per intenderci il grafico di BNB quando ha invertito il suo trend, non lo ha ancora invertito BNB per la precisione, ma se dovessimo ragionare è in questa zona che inverte il trend, quindi sotto 185, però vedete la differenza di una fase di crash da maggio in poi di BNB che sostanzialmente è 0, cioè da maggio in poi BNB per esempio non ha fatto assolutamente nulla, mentre Solana è crashata dell'84%, attenzione che non era solo la fase FTX ad averla fatta crashare perché già da prima era un po' scesa, però come se qualcuno di voi si ricorda fino al momento FTX che è quello di novembre non era così tanto disastrosa la questione, perché eravamo dalla fase di inversione più o meno a un meno 40%, non era disastrosa ma sempre meno 40% era, poi siamo arrivati a meno 80% con una questione di FTX ragazzi, quindi ricordatevi un po' la questione delle logiche di come si ragiona su un'inversione di trend, che cosa bisogna guardare eccetera, ma adesso chiediamoci un po' la domanda, la questione di analisi tecnica è evidente, trend ribassista per Solana, ci sono eccessi di ribasso che possiamo andare ad acquistare rispetto al mio ultimo video ragazzi dove vi ho mostrato questo grafico potete notare in maniera molto attenta se andate a rivedere quel video che il prezzo di 7-8 dollari, questo qui 7 dollari e 80, 8 dollari ha funzionato in termini di supporto, infatti Solana nella giornata di ieri ha raggiunto il minimo degli 8 dollari e poi è rimbalzata questo stesso livello non l'ho aggiunto in questo video, lo trovate nel video dell'altro ieri, quindi andatelo a rivedere è lo stesso grafico, il successivo livello di supporto su Solana invece è 5 dollari e 50, questa zona qui è molto più basso anche dagli attuali prezzi perché dagli attuali prezzi è un altro meno 40, ricordatevi che quando un asset finanziario assume un ribasso di questa proporzione ragazzi, tornare indietro è veramente molto difficile vi faccio vedere e comprendere il concetto, se da qua Solana dovesse ritornare ai prezzi di maggio dovrebbe fare il 500%, questo ve la dice lunga e vi spiega anche perché tecnicamente essere in una position contro trend su un asset finanziario è una follia totale e c'è un cosiddetto concetto che vi invito ad approfondire che si chiama spirale della morte, spirale della percentuale, cioè la percentuale ragazzi è vero che Solana ha perso l'80-90% ma praticamente è defunta in termini di tecniche di rialzo di percentuali perché necessita di una performance del 500% per tornare a maggio e di una performance di, insomma adesso qui vi sbalordisco, 2800% per tornare ai massimi storici, ciò significa che se io diciamo sono un investitore che non avevo in hold questa criptovaluta e adesso decido di acquistarla, se un domani dovesse tornare ai massimi storici un holdere avrebbe zero ma un investitore diciamo in maniera oculata, un investitore bravo avrebbe il 2800%, fate un po' i due conti ragazzi è importante ragionare in queste cose perché vi invito ad approfondire questo concetto la spirale della morte della percentuale che è importantissimo da comprendere quando andate a investire ed è il motivo principale per il quale a volte prendiamo anche noi trader degli stop proprio per prevenire una cosa del genere perché una cosa del genere sarebbe un disastro in pratica e ingestibile quindi anche un eventuale rimbalzo di questa criptovaluta ragazzi avrebbe solo un esito temporaneo e di breve periodo, intanto la struttura di lungo periodo è invertita, il trader imbassista non è detto che non possa rimbalzare, adesso vi faccio comprendere il concetto però questo livello di supporto l'ha tenuto, poi abbiamo quest'altro livello di supporto avete visto come è facilissimo per questa criptovaluta andare a perdere un altro 40% come se non ci fosse un domani perché non ha spazi di... non ha supporto in questa zona al di sotto poi di 5 dollari e qualcosa diventa poi una struttura a diversi livelli di supporto però chiaramente ragazzi bisognerebbe poi andare lì a comprendere che cosa farà il team o non in team insomma si parla comunque di un progetto che deve ripartire da zero sostanzialmente e questo ci potrebbe anche stare, assolutamente potrebbe diventare ghiotto comunque io qui vi ho segnato tutti i livelli di supporto che potete andare a controllare diciamo su questa criptovaluta da un punto di vista di cicli e questo io ve lo dico in maniera molto netta in questa zona abbiamo l'unico ciclo annuale certo che è quello di luglio 2021 Solana ha certamente un annuale ribassista con tutta probabilità l'attuale situazione di Solana come vi dicevo nell'ultimo video ha questi annuali di natura ternaria che dovrebbero avere questo tipo di atteggiamento ciò significa che in teoria fino al fine dell'anno 2023 questa cripto avrà alti e bassi ma difficilmente riuscirà ad avere un trend diverso da questa struttura di trend ribassista alcuni di voi mi hanno puntualizzato questa cosa dicendomi Mauro però speriamo insomma che non avvenga questa e intanto ovviamente ragazzi io non faccio il tifo per nessuno vi ricordo che essere assolutamente onesti e ostentamente precisi nell'analisi dei dati è uno dei principali valori di un investitore e di un trader quindi dovete sempre analizzare i dati e capire cosa vi comunicano e non andare a mettere le vostre opinioni personali perché quando inserite le vostre opinioni personali nell'ambito degli investimenti al 90% sta sbagliando ragazzi poi pian piano magari chi di voi ha tante esperienze tanti anni di esperienza comprende questi concetti alcuni di voi che magari non gli suona bene questa cosa io vi invito ad avere e magari la mette un po' aperta a mettervi il dubbio e magari ragionare se effettivamente è così analizzare i dati è sempre la questione principale e in questo caso i dati sui prezzi di questa cripto sono inequivocabili quindi fino ad un'eventuale inversione non è solo trading per quanto riguarda Solana il resto holding o quant'altro è semplicemente una scommessa di fortuna non è assolutamente un investimento che può essere definibile un investimento oculato e corretto quindi andare hold su una cripto del genere in questo momento è solo fortuna poi se magari qualcuno di voi dice io li ho da sempre ormai ho perso tutto il 7% ci lascio quello che c'è chiaramente questo non sono ragionamenti da investimento no, quelli sono ragionamenti personali che magari hanno altri esiti soprattutto di natura motiva ma non parliamo più di tecniche di investimento io qui parlo e vi spiego un po' le logiche per farvi ragionare portarvi alle vostre soluzioni perché ognuno di noi ognuno di noi, anzi, per la verità, ha la sua e andiamo a vedere invece la questione ciclica come vedete io qui vi ho suddiviso la struttura ciclica in 4 cicli minori che compongono o secondo me dovrebbero comporre questa struttura di un annuale a forma ternaria che in questo caso dovrebbe essere più cortino e andare a chiudersi intorno a marzo attenzione che qui l'ho fatto molto corto e qui può allungare anche tranquillamente fino ad aprile quindi marzo aprile questa zona ma essendo che manca tanto tempo è inutile andare a fare previsioni di questo periodo perché non ha senso non guarderemo i grafici da qui ad aprile li guarderemo e cove quindi poi quando qualcosa cambierà ci adatteremo al grafico in questo caso però una struttura che mi interessa guardare è la partenza di un ciclo che solitamente fanno queste crypto 70-80 giorni una specie di ciclo trimestrale che ragazzi è iniziato proprio il 21 di ottobre sul Solana e che si sta completando in questa zona teoricamente potrebbe essere anche stato completato proprio ieri nella giornata di ieri a 69 giorni non c'è assolutamente nessun vincolo a farlo continuare quindi questo minimo che è stato fatto ieri potrebbe essere la fine di questa struttura ciclica e l'inizio qui di un nuovo trimestrale di circa 70-80 giorni che perché no potrebbe nel breve periodo adesso vedremo un po' di dati nel breve periodo innescare una struttura di rialzo che potrebbe avere questa fase ovviamente ragazzi se questa view tecnica è ciclica non mi aspetto che un ciclo di questo tipo possa essere rialzista cioè mi aspetto sempre che il minimo finale debba essere inferiore al precedente ci sono solo alcune eccezioni che poi andremo a vedere ma quello che mi importa dirvi è che in questi prossimi giorni se questo ciclo si definirà concluso potremmo in effetti avere un mini rimbalzo mini rimbalzo che per una cripto di questa levatura con il fatto che è crashata in maniera abnorme potrebbe comunque essere un 40% fermo restando che molti di voi potrebbero dire ma io aspetto il rimbalzo e poi vado short questo diciamo è un altro paio di maniche sapete che non short bitcoin per partito preso anche se a dire la verità qualche operazione in cena nel trading di breve l'ho fatta anche io su bitcoin in short sui future però diciamo non no in linea di massima non la voglio fare diciamo mai in un certo modo però sulle cripto invece c'è tanto da shortare soprattutto su alcune allora andiamo a vedere nel breve periodo vi ho messo invece un time frame differente vedete un 4 ore e già cambia tutto perché qui noi dovremmo ragionare e andare a cercare un'inversione di trend su Solana che ci indichi che è possibile che sia iniziata appunto quella nuova fase ciclica ovviamente un'operazione del genere sarà gestibile solo da trader quindi se non siete trader non siete abituati formati eccetera intanto la mia domanda è sempre la stessa perché? perché dopo 5 anni di lezioni in cui i mercati crypto i mercati old i mercati classici vi insegnano che senza formazione non andate a nessuna parte senza pianificazione strategia non serve a niente quello che fate quello che leggete online la mia domanda resta sempre perché? anche un libro ragazzi dai primo gennaio cioè 2 gennaio perché prima siamo ubriachi in hangover leggetevi un libro facciamo così va bene di analisi tecnica allora detto questo detto questo è una cosa interessantissima da andare a vedere che ancora nonostante il rimbalzo anche su un grafico piccolo come un 4 ore ragazzi che praticamente si utilizza per un trend di 2-3 giorni vedete che in realtà non ha invertito nulla neanche qui perché ha creato un nuovo massimo che è questa zona qui però è in pratica ferma in parà di congestione cioè pensata un po' nonostante scendiamo anche su un grafico piccolino non riesce a invertire un trend nemmeno lì solo sul grafico orario che praticamente parliamo di trading intraday quindi con trend che potrebbero durare 2-3 ore quindi praticamente inutilizzabili se non siete dei trader intraday un eventuale superamento dei 10 dollari con chiusura di questa sopra di sopra diciamo di questa zona 10 dollari 11 prevede un'inversione di breve che tra le altre cose è anche abbastanza volatile quindi molto ampia ingestibile con un stop loss che sarebbe a distanza di 30-40 punti insomma ragazzi qui c'è solo da attendere secondo me e da fare operazioni di trading veramente speculativo per chi di voi è tecnico però da un punto di vista di possibile ripresa nei prossimi giorni di un mini trend di solana c'è ed io vi volevo appunto informare di questa cosa quindi magari qualcuno di voi potrebbe decidere che questi prezzi sono buoni vedete e attendere magari un'inversione di questo tipo fermo restando che se questa view ciclica che vi dicevo del fatto che poi deve ritornare a scendere è corretta non supererà mai i 15 dollari circa 15 quindi qualora dovesse anche rimbalzare in maniera vistosa e riportarsi al di sopra di questo livello qui sarebbe iniziato un nuovo ciclo maggiore si definisce così e quindi dovremmo rifare tutti i conteggi quindi possibilità di rimbalzo per Solana solo di brevissimo periodo solo per trader esperti solo per chi sa maneggiare con cura tecniche di stop loss eccetera ma neanche ragazzi in questo momento non si vede neanche sul grafico a 4 ore quindi ricordatevi questa cosa non siate precoci su queste questioni va bene chiudo con la kick che vi avevo promesso e sulla questione dei criptomiliardari perché mi faceva troppo ridere il fatto che magari ognuno di noi vada ad avere sempre l'idea che questi miliardari questi istituzionali queste persone che sono iper investitori bla 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 che vi dicono sempre old buy buy the dip buy the dip poi sono fanno bene il loro lavoro no ragazzi ragioniamo su certe cose se siamo degli investitori quello che è più importante per un investitore è la regola numero uno di warren buffett cioè non perdere è la prima regola la seconda è ricordati la prima regola se un investitore anche di questi settori cripto in un momento perde una cifra imponente del proprio patrimonio certamente da un punto di vista di investitore non possiamo identificarlo come un super investitore magari lo identificheremo come un grande imprenditore che sono due cose differenti no l'investitore deve un po' proteggere i propri patrimoni d'altronde è anche così perché molti di questi super miliardari delle cripto non sono investitori ma sono appunto imprenditori delle cripto il primo di tutti è CZ che da marzo in pratica perde una cifra spropositata 60 billion su 65 milioni perché i suoi averi si riportano da 65 billion a 4.5 billion ragazzi è una cifra non so cioè enorme praticamente perché corrisponde al 92% del totale quindi è come se io perdessi domani il 92% del mio totale se qualcuno di voi dirà vabbè però c'ha sempre 4 infatti è quello il concetto il billion però comunque il 92% ragazzi è una cosa così poi ci sono anche gli altri chiaramente i famosi gemelli di Gemini che hanno perso anche tantissimo però comunque molto di meno è proprio CZ che insomma fa un disastro è il proverino per il suo patrimonio praticamente vicino anche alla questione di Elon Musk Elon Musk anche lui ha perso 116 miliardi insomma cifre spropositate detto questo ragazzi poi vi lascio con questa tabellina che abbiamo visto che volevo dirvi prima ma mi sono dimenticato poi vi dico francamente di mostrarla la nostra oggi tanto adesso tanto non è importantissima in termini di discussione Mesh World ragazzi il prima ribasso vicino al 20% in pratica abbiamo una vicinanza al 2008 cioè stiamo parlando ragazzi di 16 anni circa 14 anni circa in cui il Mesh World che è un indice estremamente prudenziale estremamente pulito non raggiungeva questi livelli di ribasso detto questo per farvi ricordare come gli anni che ci sono stati questi 12 anni nei mercati classici siano un'eccezione e non la regola ricordatelo quando sentite molto spesso parlare di pack 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 di buy the deep 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 anche lì ricordatevi queste logiche e ricordatevi che i mercati non sono così semplici e non sono così superficiali come sembrano sembrano poi ovviamente nel il bias di lungo periodo che cresce c'è ci stiamo dentro alla grande però ricordatevi sempre che è importante ragionare sul momento 2023 un anno d'oro 2023 un anno di grande riflessione è un anno in cui forse si staremo alla soft landing mi pare il secondo negli ultimi vent'anni sarebbero una eccezione macroeconomica che andremo a vedere a me piacerebbe tanto una cosa del genere perché interessante soprattutto per i miei studi macro mi ricordo quando ero in dottorato che facevo questi studi macro e si ragionava su questa potenzialità che sarebbe stato sarebbe bello vederlo va bene per oggi è tutto buon inizio buona fine tanti auguri a tutti voi i vostri cari passate un super inizio di un nuovo anno 2023 splendido e speriamo che ovviamente bitcoin ci faccia stare tranquilli in maniera brusca il 2023 ciao ragazzi